Se stai riscontrando problemi riguardo al Rocket League che non si avvia, non si apre, non funziona, quindi in questo caso se hai cercato su YouTube una guida di Rocket League che non si avvia proprio, è possibile risolvere il problema. Per esempio se adesso vado a cliccare su avvia, avvia non riuscito, può uscirti così questo errore, quindi impossibile avviare Rocket League, verificare l'installazione. Quindi puoi semplicemente andare sui tre puntini nella libreria di Epic Games e gestisci e fai la verifica, così facendo farà un ripristino dei file nella sua cartella e hai fatto. Se non è quello il problema può essere che l'antivirus blocchi così la cartella di Rocket League e quindi cancella qualche file. Se vai direttamente su Windows Defender qua sopra, vai su protezione da virus e minacce, scende fino a giù fino a trovare così gestisci impostazioni, quindi impostazioni di protezione da virus e minacce, scende fino a giù fino a trovare esclusioni. Aggiungi un rimuovo di esclusione, aggiungi un'esclusione e inserisci così la cartella di Rocket League. Quindi in questo caso vai direttamente nel disco dove hai scatichato e installato il gioco, quindi ando qua, ho creato la cartella e ci ho messo così i file del gioco, RL Rocket League, sezione una cartella e basta. Così facendo l'antivirus non romperà più le scatole a Rocket League, ed eccolo qua. Se non è questo il problema andiamo direttamente nella sua cartella, quindi prima di andare nella cartella faccio un attimo una verifica e vedo come va. Quindi faccio la verifica, installazione in corso e attento. Ok, ora una volta fatta così la verifica andiamo direttamente nei tre puntini, gestisci, entriamo così nella cartella. Binaris, un 64, scendi fino a giù fino a trovare Rocket League.exe, mostra attropazioni, può servirti anche per esempio se hai problemi nelle partite vai su firme digitali, clicca anche qua sopra, dettagli, visualita certificato, installa certificato e fai avanti e fai fine. Una volta fatto chiudiamo un attimo qua, tasto destro su Rocket League, proprietà, compatibilità, metti la spunta qua sopra, su programma come amministratore, quindi segui questo programma come amministratore, disabilito, ottimizzazioni, schermo intero. Stessa cosa anche con il DPI programma e sistema avanzato. Una volta fatto, puoi fare anche un'altra cosa, quindi vai su esegui. Per cento, app data, per cento, quindi qua sopra vai a scrivere per cento, tasto shift più 5 per fare il per cento, il segno per cento, app data per cento. Vai in app data qua, local. Ora, se c'è la cartella di Rocket League qua dentro, ti consiglio di cancellare quella cartella, di eliminarla. Quindi rimuovi quella cartella, rimuovi anche la cartella di Epic Games, ovviamente rimuovendo la cartella di Epic Games qua dentro, dovrai fare il login, quindi dovrai solamente mettere le credenziali da capo, tipo metti di nuovo la tua email, la tua password, fai l'accesso e rientri così nel tuo account Epic con i tuoi giochi già installati. Per fare tipo un ripristino, se è colpa di Epic Games oppure colpa di Rocket League, quindi dobbiamo anche capire qual è il problema. Una volta fatto, non avviare mai Rocket League sul desktop, avvialo sempre su Epic Games e quindi fai avvia. In esecuzione. Questa volta nessun errore avviano riuscito. Il gioco è andato, sta andando così il caricamento. Mi sta andando di nuovo il tutorial, quindi impostazioni. Quindi il gioco a me è andato senza nessun problema, caricamenti, nessun errore avvio non riuscito, quindi il gioco è andato. Se hai problemi puoi commentare sotto al video, quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.